1, 2, 3, 4 Balla e brucia Balla e brucia Ciao, sono Emily e sono la bandiera di Balle e Brucia Daz Balle e Brucia Daz è una disciplina di danza a brucia calorie a ritmo afro-caraibico Daz sta per Dancehall nata in Jamaica Balla e brucia 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 Balla e brucia